amici bentornati su questo canale oggi vi faccio vedere come esattamente la tronxi crux one o crew a one andiamo bentornati amici e amiche di questo canale io sono alex come sempre e già subito ve lo dico così ci torniamo il dente tolto il dolore qua sotto trovate tutti i link possibili immaginabili se trovate qualcosa nel video stesso io ve le metto qua sotto nei link oltre a trovare il mio sito dove potete chiedermi preventivi cosa faccio informazioni insomma eccetera eccetera sapete che sono un maker un dioramista soprattutto ma sono un maker quindi andate qua sotto dare un'occhiata mentre partiamo subito con quello che è il video di oggi perché vi ho fatto vedere esattamente com'era l'unboxing com'era il montaggio di questa tronxi crux one o crew a one che è questa piccolina qui e devo dirvi che le mie sensazioni iniziali non erano sbagliate perché mi sono trovato benissimo è piccolina non è tanto rumorosa amanti diciamo che è meno rumorosa probabilmente della della sovol per esempio che quando partono le ventole giustamente del dell'estrusore comincia a farsi sentire un po però comunque sono entrambi sopportabili di questa effettivamente mi sono un po stupito perché effettivamente va cioè si sente meno per esempio forse perché piccolina ma non è sempre detto ce ne sono molte 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 più rumorose ma cosa dirvi intanto ho fatto un po di test per prendere questo lo lascio da parte ma per prendere ovviamente proprio li faccio vedere da vicino per prendere delle così dei riferimenti e vedere se la cosa era a posto o meno ho stampato le solite cose quindi la 3 di benci e un paio di cubi ho usato anche il filamento bianco che mi era rimasto della della sovol proprio per stampare delle cose uguali a quelle che avevo stampato della sovol quindi ho stampato una 3 di benci ed è venuta benissimo adesso ve la faccio vedere c'è qualche insomma qualche un po di stringing ma non eccessivo niente di preoccupante il resto invece è venuto benissimo i cubi mi hanno veramente stupito perché sono praticamente perfetti sia come superficie io in questo caso ho usato un ptg nel caso grigio nel caso bianco invece il pl a della che avevo dentro la sovol e devo dire che anche dimensionalmente praticamente perfetti cioè mi sono stupito con questa piccolina qui c'è una cosa se doveva essere 20 x 20 x 20 qua abbiamo un 20,02 se non mi ricordo male 20,01 e un 19,9 che è invece lo z semplicemente perché avevo schiacciato un po troppo il primo strato per evitare che magari si staccasse il pezzo quindi sarebbero perfetti ragazzi c'è una cosa incredibile cioè regolazioni a parte il livellamento del piatto quasi zero e devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto poi ho stampato ripeto poi vi faccio vedere anche queste cose magari ve le faccio passare nel mentre ho stampato lo stesso file che ho stampato con la solo per un progetto che è questa sorta di roccia a parte la finitura del piattino qua in pay che a me fa impazzire proprio bella 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 e da proprio una finitura niente male anche tutto il resto è stato stampato bene molto bene oltretutto ho stampato il il dado quello grigio a 1,5 non i classici due o meglio non il cash il classico 0,2 ma uno 0,15 quindi con un po più di finitura e devo dire ragazzi io non ho quasi parole nel senso che da una macchina così piccola non mi aspettavo una cosa così in realtà poi ho stampato anche del tpu che però non ho più qua sotto mano no perché erano dovuto consegnare era un gadget di prova per per una fiera e quindi l'ho dovuto consegnare in fretta e non sono riuscito a fare le le fotografie piuttosto che i video però devo dirvi che ha svolto il suo lavoro perfetto cioè col fatto poi che a questo bowden chiamiamolo bowden che non è tutto intero ma si stacca vi faccio passare anche quelle immagini agevolato molto e la ritrazione per esempio è venuta molto molto bene che dirvi è una macchina che secondo me vale tutto quello che costa quindi intorno ai 200 euro 10 euro e meno 10 euro in più dipende da dove l'acquistate io vi lascio sotto il link di amazon perché secondo me è meglio direi che li vale tutti compatta 18 x 18 x 18 cm vi ricordo la dimensione di stampa il volume di stampa massimo che però secondo me per la maggior parte dei lavori può andar bene ripeto anche avendo una sovol per esempio o una chiron come la mia chiron da 40 x 40 per per oltre cioè ha senso fino a un certo punto avere un piatto di stampa così grande il piatto di stampa così piccolo vi dà la possibilità uno di usarla praticamente sempre perché alla fine appunto nella maggior parte dei casi non stampa rete cose grosse o comunque si faranno a pezzi al massimo ma l'altro vantaggio è che il livellamento del piatto è facilissimo perché più piccolo è il piatto e meglio si riesce a calibrare e la cosa è fantastica ma proprio fantastica l'ho calibrato in un anno secondo con tra l'altro con il suo foglietto quindi un foglietto semplicissimo che mettono in confezione e vi posso dire che tra l'altro guidato nel senso che nel display ci sono c'è una procedura guidata quindi fa fare gli step io vi consiglio di farli in obliquo perché secondo me è meglio quindi dal punto 1 al punto 3 se non mi ricordo male poi il punto 4 e punto 2 quindi diagonalmente perché stressa anche un po meno il piatto e quindi cerca di non distruggerlo sostanzialmente non ho trovato cose concave piuttosto che altro è andato piuttosto bene tutto se subito all'inizio quindi ottima cosa per quanto riguarda invece la stampa adesso appunto vi faccio passare delle immagini e vi faccio vedere che mentre stampi in realtà è molto simile pensavo avesse meno meno opzioni rispetto alla so vol ma gli manca veramente pochissimo ci sono tutte le impostazioni che potrete avere che insomma che servono in sostanza quindi cambiare in corsa la temperatura di sia del piatto che dell'ugello potete fare potete riprendere la stampa metterla in pausa quelle impostazioni ci sono tutte e nel display appunto mentre state stampando potete variare addirittura ovviamente in stampa la temperatura di ogni singolo di ogni singola parte io vi posso dire che è veramente una bella stampa antina per quanto mi riguarda l'ho utilizzata un po sostanzialmente quasi tutti i giorni e devo dire che mi sono divertito anche nel vederla stampare perché è una cosa piccolina e diceva da questa cosa piccolina può nascere tutte queste cose è una soddisfazione soprattutto perché quando disegni qualcosa tu a pc quindi quando modelli in 3d e poi lo vedi realizzato tridimensionalmente diventa veramente bellissima perché secondo me è una cosa bellissima tra le altre cose ci ho sentito qualcuno che si lamentava del fatto che l'incremento del della temperatura fosse di step a 11 quindi dovessi andare lì a pigiare 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 da zero fino a 200 diventa un po un massacro invece adesso appunto vi faccio vedere che pigiando sull'iconcina passate subito a una a un incremento di temperatura alta e poi potete scegliere andare in più o in meno quindi è comunque abbastanza semplice è abbastanza rapido quindi cosa dirvi d'altro io spero di avervi detto le cose basilari principali se volete sapere qualcosa fatemelo sapere perché ovviamente di una stampante 3d io vi posso dire quello che ho provato io però magari qualcuno di voi ha delle esigenze diverse o particolari e magari questa stampante mi potreste chiedere che ne so va bene per fare determinati lavori o per determinati filamenti no non va bene per determinati filamenti o meglio va bene per i filamenti standard diciamo così quindi pela pela plus pieti gt più non non a meno che di non cambiare il lugello non va bene così di fabbrica per stampare per esempio filamenti caricate al carbonio vi distruggerebbe completamente lugello però si può fare nel momento in cui andata a cambiare lugello dipende poi sempre dalla temperatura la temperatura ho visto che comunque si alza parecchio va va su va su bene insomma quindi io ho stampato fino a 280 gradi con lugello e non ha avuto nessun tipo di problema quindi sono molto soddisfatto ripeto vi faccio vi invito a scrivermi sotto se avete bisogno di qualche informazione in più però cosa dirvi d'altro è semplice è veramente una stampantina semplice ma che secondo me è molto intelligente sia nelle dimensioni sia per le porte perché tante porte a e mi stavo dimenticando che ho stampato anche questo pezzo questo pezzo è fatto in ptg perché è il pezzo che in teoria puoi incastrare sulla maniglia senza toglierla tra l'altro c'è proprio l'incavo apposta senza toglierla si incastra lì sopra e si fa passare la bobina da sopra e non dal lato io devo vedere sinceramente se farlo meno perché in un certo senso poi devi togliere o non usare il sensore di filamento oppure metterlo in un altro posto quindi devo devo vedere se farlo oppure no però vi assicuro che è venuto veramente bene adesso ve lo faccio vedere appunto dal più vicino ma è venuto veramente bene bello compatto poi perché ptg e lo stampato una temperatura un po più alta proprio per fare in modo che gli strati e i layer si incastrassero bene si fondessero bene anche perché deve sorreggere almeno un chilo di solito io uso uso filamenti con rocchetti da da un chilo quindi doveva sorreggere quello devo dire che tra l'altro avendo lo stampato così e quindi i layer sono in questo modo l'ho già provato e scorre bene anche la anche la bobina devo dire che scorre bene io tutte bobine o plastica o di cartoncino perché adesso sapete per l'ambiente ci sono anche queste bobine eco sostenibili diciamo in questo modo devo dire che è venuto bene e ha fatto che qua io non avevo messo supporti e me l'ha fatto ovvio c'è qualcosina un piccolo difettuccio perché era quasi arrivato a essere parallelo al terreno però al piatto più che al terreno però devo dire che l'ha stampato l'ha stampato bene io sono veramente soddisfatto questo tra l'altro ve lo lascio sotto nel link l'ho trovato su team di verso volevo disegnarmelo io poi in realtà come al solito guardo prima di se c'è qualcosa di simile e l'ho trovato su team di verse così se la prendete sapete già dove andare a parare cosa dirvi l'altro non credo non ci sia più niente da dire perché è una stampa tina che secondo me vale tutta la spesa vale tutta la spesa avete una stampante funzionale con la maggior parte delle funzioni con il team di cinghia con l'unico pecca della tendi cinghia del piatto in questo caso è che dovete svitare due viti per tirare il motore ma è veramente poca roba è un direct drive a questo questo sistema monobraccio e tutta la stampante che comunque risulta più contenuta come spazi quindi secondo me è un ottimo acquisto ripeto vi lascio sotto il link e poi vedete voi se ce l'avete o la volete acquistare sono qua per le vostre domande non ci sono problemi da alex e anime dal mondo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao